La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato per bancarotta fraudolenta sette persone e sequestrato il noto ristorante Reginella, conti correnti, quote societarie e tutti i beni immobili e immobili della società che lo hanno gestito. Le indagini hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della società, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza emessa lo scorso gennaio. Il complesso meccanismo architettato dagli amministratori consisteva nell'utilizzo di una serie di società filtro, intestate a prestanome compiacenti che si sono avvicendati solo sulla carta nella gestione del ristorante e che avevano come unico scopo la massimizzazione dei profitti. In particolare le Fiamme Gialle hanno ricostruito che gli indagati avrebbero utilizzato intestatari fittizi, in modo da rendere più difficoltoso l'esercizio dell'azione penale o azioni di responsabilità in sede civile, accumulando nel tempo un debito pari a quasi 1,5 milioni di euro. In buona sostanza l'esercizio dell'attività di ristorazione non avveniva ad opera della società che ne deteneva il complesso aziendale, ma attraverso quelle che ne divenivano solo formalmente affittuarie, in modo da sottrare alla massa fallimentare i beni aziendali e il locale di via Posillipo. Il noto ristorante sarà ora gestito da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, per assicurarne la continuità aziendale e la tutela dei posti di lavoro.